...diciamo del potere, molto bello e molto abile, e si dice che lui poi non gli uccisa con un staccio mentre lei era nel centro, non è vero. Anche questa è un attore di musica, che lui era un uomo, non poteva fare cose normali. No, in realtà lei con me è morta per un po' bene, ma... Allora, se andiamo avanti... Vedete questo ruolo, questo era il mondo dorato di Nerone. Nerone era poi, diciamo, non è stato facile fare questo libro perché di noi non abbiamo niente, diciamo, le mie descrizioni sono negative, i suoi busti sono roba un po' mostruosa, eccetera. Lui era un ragazzo alto, probabilmente con gli occhi azzurri o verdi, biondiccio si dice, o con capelli rossi perché venendo dalla pandemia di Marabalese... Tieta s turbura per rosalzare, insieme, o con laiesافie s Martino con la zona di Mauro dove non areasasingono in ferro bambino? T차�ino, incoming fischale. Oh, c'è laベta, ok! Ci sono boccia qui, anche no le sposi sono una congelera, oppite fischale! Oh, c'è la mia moglie per la l西arna, anche la parà! Ci sono troppo chiunque! Di credere il caito quasi di provость sinistro... Ele, piuttoso si consiste nel volto da gioco po' Cicilla, G shot، Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.